Abbiamo deciso di ristrutturare casa perché abbiamo acquistato questa casa al mare a gennaio ed era completamente da rifare, c'erano i pavimenti dissestati, i soffitti non messi bene, i muri un po' scrostati, anche tutte le tubature, addirittura non c'erano nemmeno i caloriferi, per cui abbiamo deciso di ristrutturarla completamente in maniera tale da poterla rendere abitabile d'estate, durante l'anno per noi soprattutto d'estate, dal momento che ha una casa di vacanza. Noi ci siamo trovati, tra l'altro eravamo molto scettici all'inizio, ci siamo trovati invece benissimo, sono stati seri, competenti, ci hanno avvisato, tra l'altro è stata una ristrutturazione a distanza, per cui noi non sempre c'eravamo, abbiamo avuto l'architetto che ci ha seguito sempre presente, anche la persona a cui abbiamo affidato i lavori, il capocantiere, è sempre stato presente in caso di necessità e non abbiamo avuto problemi, per cui lo consigliamo vivamente. Anche nei prezzi, che di solito si sente sempre dire in giro che alla fine aumentano, non abbiamo avuto scostamenti, se non derivanti da dei lavori in più che abbiamo chiesto e peraltro ci sono sempre stati detti in maniera corretta e preventiva. Facile con facile ristrutturare. Grazie. Grazie a tutti.